Inaugurata la mostra che raccoglie opere di artisti piemontesi ispirate al tema della lotta per la democrazia. La rassegna con cinque opere dei maestri Francesco Casorati, Mauro Chessa, Pino Chiezzi, Lea Giarmati e Giacomo Soffiantino, alle Radici della Democrazia, Testimonianze d'Arte, e promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione ed è esposta a Palazzo Lascaris fino al 15 maggio. L'arte, la cultura, la democrazia e la resistenza legate insieme idealmente. La cultura e l'arte vivono tranquillamente e liberamente in un paese democratico. Noi siamo un paese democratico nato dalla lotta di liberazione e dalla resistenza e dalla quale nasce la Costituzione e la Repubblica Italiana.